Una giornata importante per la città di Chieti, l'annuncio dei lavori di ristrutturazione della Biblioteca De Meis per un importo di 300.000 euro, Presidente. Sì, è il secondo lotto, quello definitivo, che riconsegnerà alla città uno spazio che purtroppo è stato sottratto dal terremoto e quindi la parte crollata diventerà una piazza, un agorà, un punto di incontro dove si potranno fare manifestazioni culturali, installazioni, incontri, convegni, spettacoli e la parte interna, quella che è rimasta, dove saranno attrezzate delle aule, delle sale che potranno essere centro di aggregazione, aule per conferenze, per informatica, per laboratori. Quindi riparte la città di Chieti con questa esperienza che ricuce un po' la storia della città privata di uno spazio, la Biblioteca De Meis che verrà invece collocata nell'ex caserma bucciante con un altro progetto che la provincia sta elaborando. Siamo molto contenti, l'architetto Di Luzio e l'architetto che dovrà fare questo progetto, hanno partecipato per adesso oltre 100 ditte, ne sorteggeremo 20 e entro questi 20 noi troveremo chi farà questo lavoro. I tempi sono 120 giorni, io spero che per l'inizio dell'estate e dell'anno prossimo questo spazio sia pronto per la città. Abbiamo cercato di liberare all'interno dell'edificio della biblioteca questi ambienti tali da poter essere funzionali ad attività diverse, gestite molto probabilmente come aveva anticipato il Comitato Cittadino da studenti, da giovani, quindi uno spazio soprattutto per i giovani. Però ecco, tenevo a precisare che questo è solo un tassello di quello che è un progetto molto più ampio, che riguarda l'intero isolato della biblioteca, quindi comprendendo la Torre, comprendendo la Galleria Romana, che è un'importantissima presenza all'interno del contesto, il supercinema, le attività commerciali ed il blocco del genio civile, nonché ovviamente della piazza di Templi Romani, che con questo specifico progetto verrà praticamente unita al cortile interno della biblioteca stessa, in modo tale da creare uno spazio unitario e uno spazio vivibile anche dalla cittadinanza, senza necessariamente i recinti che attualmente vediamo.